Antifascismo, insieme al meridionalismo e al liberalsocialismo, è la parola chiave dell'itinerario intellettuale e politico di Tommaso Fiore. Nato ad Altamura il 7 marzo del 1884 e morto a Bari il 4 giugno del 1973, Tommaso Fiore, del quale ricorrono quest'anno i 50 anni dalla morte, ricordati con numerose iniziative culturali non solo ad Altamura, non solo in Puglia, ma anche a livello nazionale, Tommaso Fiore è stato il punto di riferimento costante dell'antifascismo pugliese durante gli anni della dittatura. Laureato si è appisa in lettere classiche nel 1907, è stato un grande umanista, studioso di Platone, Virgilio, Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro, ma ha sempre rifiutato l'idea dell'intellettuale chiuso nella propria torre d'Avorio e perciò ha sempre affiancato ai suoi studi l'impegno politico e civile. L'antifascismo lo ha preso da Gaetano Salvemini, il primo e massimo educatore dell'antifascismo, come lo definisce, intuendo la natura violenta, liberale, oppressiva e antidemocratica del fascismo prima ancora della marcia su Roma. L'assassinio di Giuseppe Di Vagno, il 26 settembre del 1921, Peppino Di Vagno, il gigante buono, che nel 1921 colpito alle spalle e bagnò del suo sangue il lastrico di Mola, come scrive Fiore, fu la prima tragica conferma di quella intuizione. Seguì nel 1924 l'uccisione per mano fascista di Giacomo Matteotti, a seguito della quale Fiore si iscrisse al Partito Socialista. Nel 1926, a causa delle percosse ricevute durante un'aggressione squadrista, morì a Parigi Piero Gobetti, il fondatore della rivoluzione liberale, dove Fiore aveva pubblicato le prime quattro delle sei lettere pugliesi che compongono il suo capolavoro, un popolo di formiche vincitore del premio viareggio nel 1952. Nel 1937 sarebbe stato assassinato in Francia, dove era esule, Carlo Rosselli, il fondatore del quarto stato, al quale Fiore aveva collaborato dopo che il regime aveva soppresso la rivoluzione liberale di Gobetti. I ritrati di Divagno, Matteotti, Gobetti, Rosselli, insieme a quello di Salvemini, costretto all'esilio in America, Fiore li ha tenuti sempre sulla sua scrivania. Dopo la promulgazione delle leggi fascistissime nel 1926 e la messa fuori legge di tutti i partiti politici, Fiore proseguì clandestinamente la sua lotta antifascista, come professore finché gli fu permesso di insegnare, dando vita a quella che fu detta la scuola di Socrate, un progetto pedagogico ispirato al principio della libertà di pensiero, e come animatore del gruppo degli antifascisti pugliesi che si riuniva a Bari a Villa la Terza e si ispirava alla religione della libertà di Benedetto Croce. In questo contesto scrisse il Vademecum liberal socialista del partito d'azione, un testo che contiene molte delle idee che dopo la caduta del fascismo, la resistenza e la liberazione furono poi accolte nella Costituzione della Repubblica Italiana. Spiato per decenni dall'Ovra, la famigerata polizia segreta del regime, per la sua militanza antifascista fu arrestato il 7 aprile del 1942 e inviato al confino a Ventotene. Liberato alla fine di novembre fu nuovamente arrestato il 3 maggio del 1943 insieme ai figli Vincenzo e Vittore e fu rinchiuso nel carcere di Bari. Il 28 luglio del 1943, mentre attendeva di essere scarcerato in seguito alla caduta del regime, apprese che il suo figlio minore, Graziano, era stato trucidato insieme ad altri 22 manifestanti che chiedevano la liberazione dei prigionieri politici, la strage fascista di via Nicolò dell'Arca. Nel gennaio del 1944 Fiore fu tra gli organizzatori e tra i relatori del primo congresso nazionale dei Comitati di Liberazione Nazionale che si svolse a Bari. In quella occasione affermò che l'antifascismo consiste nella innata, irreducibile ostilità a metodi di violenza e di oppressione in qualsiasi tempo e luogo e dalla violenza all'oppressione alla dittatura alla barbarie delle leggi razziali e della guerra, oppose il suo ideale della libertà espansiva e creatrice. Scrisse, noi sentiamo il valore supremo della libertà, siamo portati ad espanderla missionariamente a quanti non la posseggono, a creare le condizioni del suo porsi e poiché è liberatrice, la libertà è sempre radicalmente riformatrice anche in campo sociale.